bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video dove farò l'unboxing di una cassa che mi è arrivata adesso, l'ho presa da un'applicazione perciò che si chiama Wish e andiamo a aprirla perchè sono curioso, il pacchetto è tipo 1000 kg e vediamo. Wow! Very, very professionals! Questi sono gli speakers, potete vedere la scatola, portable della bluetooth, va bene wifi e c'è pure la tecnologia nfc, quella che c'è vicino il cellulare. Apriamola, istruzioni, questa è la cassa, molto bella! Ma che c'è alessibile? Non so se sia da caricare. Poi abbiamo il cavetto aux e il caldo per caricarla. ci vediamo dopo che la proviamo. Questa è la mia voce. 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 Questa è la mia voce.